Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale JustinApple. Io sono Justin e oggi voglio presentare una funzionalità alla Samsung. Durante la presentazione dell'S4 ha destato tanto scalpore la notizia della funzionalità che permette allo smartphone di capire se l'utente stia guardando o meno lo schermo e conseguentemente disattivare in automatico il play del video che si stava guardando. Questa è una funzionalità software che in realtà è presente anche sull'iPhone scaricando l'applicazione Lookaway. Lookaway è un player YouTube che offre oltre alla normale funzionalità di ricerca anche e soprattutto la possibilità di attivare il tracciamento dello sguardo e l'ascolto ambientale con il quale oltre alla funzione sopra citata permette di disattivare l'audio con un solo shh. Devo dire che per quanto non natia la funzione si comporta alla grande anche se più che seguire lo sguardo comprende la posizione del viso quindi solo ruotando la testa in una delle quattro direzioni il video andrà in pausa. Insomma tanto per l'amore per nulla. Anche un piccolo sviluppatore ha saputo integrare una funzione presentata come rivoluzionaria su di un S4 e presente già nell'app store di Apple per giunta gratuitamente. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast. Usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione.